Nel precedente episodio, Ash ha conosciuto e sfilato la capopalestra di Galar Fabia al dojo Karate di Zafferanopoli, incassando una sonora sconfitta. Go invece è riuscito a sconfiggere il maestro Karate, ottenendo un esemplare di Hitmonchan. Nell'episodio 35 di Esplorazioni Pokémon, mentre i nostri eroi mangiano, Go decide di voler catturare un suo personale Pikachu e grazie al professore e ai suoi assistenti riesce a capire qual è il luogo perfetto per trovarne uno. Lungo il percorso, Go trova due Pikachu che tenta subito di catturare, ma in entrambi i casi fallisce il lancio della Pokéball. Gli si avvicina a lui un Pikachu femmina, che dona delle bacca pesca a tutto il gruppo di eroi. Go nota subito che quel Pikachu ha una coda diversa da quello di Ash e scopre col Pokédex che si tratta di una femmina. Non si lascia sfuggire l'occasione di catturare quell'esemplare, che riesce a ottenere con una certa facilità. Uscito dalla Pokéball, il Pikachu di Go guida il gruppo verso il posto dove si trovano tutti i Pikachu della zona, un luogo roccioso dove i Pokémon cercano delle pietre a tuono per evolversi in Raichu. Anche la Pikachu di Go trova una pietra a tuono, che tenta di cedere al Pikachu di Ash, che inizia a scappare da lei spaventato. Ash spiega alla piccola che il suo Pokémon non ha intenzione di evolversi, e la Pikachu decide allora di dare la pietra a tuono al suo allenatore Go. Appare all'improvviso il Team Rocket, che usa uno dei suoi soliti macchinari, anti-elettricità, per aspirare vari Pikachu. Dalla gacha machine portata dal solito Pelipper escono un Buneri e un Mincinno, che nonostante l'aspetto si rivelano essere dei Pokémon più forti del previsto, che mettono in difficoltà sia Pikachu che Raboot. Nel frattempo, Miao continua a catturare altri Pikachu, e riesce a prendere anche quello di Ash. Il Team Rocket, raggiunto l'obiettivo, riesce a scappare via in una nube di fumo. Il trio tenta di capire quale Pikachu sia quello di Ash, e iniziano a pescarne uno ad uno con la loro macchina. Intanto, Ash, Goh ed il suo Pikachu femmina riescono a trovarli. La lotta ricomincia, mentre la piccola Pikachu tenta di liberare i suoi amici. Miao decide di catturare anche lei, che messa in difficoltà, chiede al suo allenatore di lanciarle la pietratuono mentre si fa risucchiare dalla macchina. All'interno del tubo, la Pikachu si evolve in Raichu rompendo il meccanismo, e insieme ad altri Raichu riescono a liberare i loro amici. I vari Pikachu, compreso quello di Ash, si mettono in fila indiana improvvisando una strana danza, e dopo salgono uno sopra l'altro formando un totem altissimo e scagliando la mossa fulmine su Jesse, James e Miao. Tornati al laboratorio, nonostante si sia evoluta, la Raichu di Goh continua ad essere generosa, dando delle bacche a chiunque si trovi vicino a lei. Nel prossimo episodio, Ash non si sarà ancora ripreso del tutto dalla sconfitta con Fabia, ed infatti non riuscirà a lottare bene in altre sfide del World Coronation Series. All'improvviso, sarà costretto a recarsi insieme a Goh nella regione di Owen, dove una tempesta di sabbia sta mettendo in pericolo la città di Ciclamipoli. I due dovranno affrontare un potente Flygon, ma pare che Goh avrà un'ottima idea su come sfidarlo. Scoprite come andrà a finire con me tra una settimana con il prossimo in sintesi di Esplorazioni Pokémon. All'improvviso, sarà costretto a recarsi insieme a Goh. All'improvviso, sarà costretto a recarsi insieme a Goh.